Qual è la mia osteopata? Allora, io vengo dal dottor Torello, mi è stato segnalato da una persona che stimo molto, che è la mia osteopata, e devo dire che mi trovo molto bene. La cosa che più mi colpisce è il fatto che sia sempre molto aggiornato e che sia una persona creativa, e questo è un valore incredibile su qualsiasi professione, quindi mi trovo bene anche a livello umano moltissimo e continuerò a venire da lui.